È cresciuta del 30% a Fanno la richiesta di iscrizioni agli asili nido, nonostante la denatalità registrata negli ultimi anni nel territorio comunale. Una situazione in controtendenza, iniziata dopo lockdown, con i bimbi sempre meno a contatto con gli anziani, ad influire anche le agevolazioni economiche con l'introduzione della fascia di esonero e la riduzione delle rette del 50-70% per il secondo e terzo figlio. Inoltre, dal 2019 è stato prolungato l'orario di apertura degli asili, che dalle 16.30 è passato alle 17.30. Servizi rivolti alla prima infanzia apprezzati dalle famiglie e sempre più richiesti. Per questo il Comune è al lavoro per realizzare nuove strutture. Intanto, come annunciato dall'assessore Samuele Mascarin, prende il via la nuova campagna di iscrizioni. La domanda dovrà essere compilata e inoltrata in modalità online, accedendo al portale del Comune di Fanno utilizzando lo speed. In alternativa a suo appuntamento, l'iscrizione potrà essere effettuata negli uffici dei servizi educativi in piazzale della stazione 7. Assessore, quando partiranno le iscrizioni? Allora, le iscrizioni per i servizi 0-3 anni, quindi Nido, Raccordo, Primavera, partiranno il 17 di maggio, si concluderanno il 30 dello stesso mese e dal 18 al 25 maggio sarà possibile, con prenotazione, fare anche gli open day, cioè poter visitare le strutture dedicate a questi servizi. Che aumentano quest'anno, nel senso che apriremo una sezione di raccordo all'interno della scuola dell'infanzia statale il Girotondo di Vallato e apriremo una sezione di raccordo all'interno della scuola dell'infanzia statale Collodi di Gimarra. Quindi ci sarà un aumento sensibile dei posti disponibili per il prossimo anno scolastico 2023-2024 per cercare di dare una prima parziale risposta all'aumento molto significativo che negli ultimi 2-3 anni abbiamo registrato di domande per i servizi di Nido. Ovviamente questa è solo una parte di una strategia più incomplessiva di estensione di questi servizi sul nostro territorio perché grazie alle nuove edificazioni che a partire dai prossimi mesi riusciremo a cantierizzare a Vallato, a Bellocchi e a Cucurano noi avremo tre nuove strutture 03 all'interno della nostra città che porteranno 120 posti in più nel corso dei prossimi due anni all'interno della nostra città portando quindi gli attuali 278 posti a 398 quindi con un aumento di circa il 40% di quella che è la capacità di accoglienza un risultato molto importante e senza termini di paragone nella regione Marche. Le tre nuove strutture sorgeranno rispettivamente vicino alla nuova scuola di Cucurano di fianco la scuola primaria di Bellocchi e in via della colonna al Vallato dove verrà demolito il nido girasole e ricostruito una città che ospita la nuova edilizia è una città all'avanguardia ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori e darà una risposta, detto, non solo in termini di vivibilità ma anche di sicurezza. Parliamo di un intervento di 9 milioni e 4 di cui 6 milioni e 8 siamo riusciti ad attingere da risorse ministeriali e 2 milioni e mezzo sono soldi che abbiamo messo noi è una risposta educativa importantissima che diamo appunto a tre quartieri ma che poi sarà anche funzionale ad altri se pensiamo alla scuola di Cucurano avrà una mensa dove potranno appunto mangiare i bambini sia delle scuole elementari, le materne del nido ma sarà anche funzionale ad altre scuole diciamo che poi sono nella periferia dove potranno servirsi della preparazione di questi cibi e sicuramente danno delle risposte anche in termini di servizio che i genitori attendono. Quali sono se sono le caratteristiche di queste tre nuove strutture? Ospitano tre nuove sezioni scolastiche poi ci sono appunto degli spazi legati a quello che è il laboratorio di cucina quindi agli uffici, alla lavanderia, a locali tecnologici e con naturalmente disegnati anche in base a tutto quello che poi è il collegamento con la parte di verde all'esterno quindi ci sarà anche un'importante tettoia proprio per favorire l'ombra e quindi la possibilità di giocare in questi spazi ai bambini anche fuori dell'edificio cosa che di solito magari in ambienti aperti con i bambini non è sempre facile trovare. Quando partiranno i lavori? Allora per quanto riguarda la scuola di Cucurano devono partire proprio adesso entro il 30 di giugno mentre il nido di Girasole e di Bellocchi i lavori dovranno partire entro il 30 di novembre di quest'anno poi il termine dei lavori è il medesimo tutti e tre dovranno essere consegnati e quindi collaudati entro il 2026 ma noi contiamo veramente di arrivare prima perché soprattutto per quanto riguarda i nidi per il 2025 di essere pronti.